bella a tutti i miei slimes qui al bentornati nel mio canale eccoci qui con un nuovo video e oggi andiamo ad analizzare alcune delle rime più fighe e geniali del rap americano ho aperto spotify ho selezionato giusto le prime barre interessanti che mi sono passate quindi tutto questo per dirvi che volendo potrebbe esserci una parte 2 o addirittura una parte 3 fatemi capire quindi sin da subito con un bel mi piace se questo format vi può interessare lasciatemi nei commenti la vostra barra preferita tra queste sette che ho selezionato oppure se ne avete qualcuna che mi sono perso magari potrei andarla a mettere dentro il prossimo video e soprattutto se non lo siete mi raccomando iscrivetevi al canale io inizierei in maniera molto easy con una rima di 21 savage in rockstar di post malone savage perché è un garage a 12 macchine e ne hai solo 6 innanzitutto è una citazione a no hurt traccia estratta da savage mode che ad oggi è doppio disco di platino ci sono diverse teorie sul significato di questa rima magari 21 savage pensa in grande e di conseguenza a riempire questi posti del garage che gli mancano con altre macchine quando avrà fatto altri soldi oppure io ho pensato che in questi posti potrebbe tenere dei soldi delle armi e perché no la droga anche se piccolo fan fact 21 savage non fuma erba però magari una bella scorta di lean potrebbe averla chissà procediamo con kanye west in all mine tratta da ye uscito nel 2018 amo le tue tette perché sono la prova che posso concentrarmi su due cose alla volta diciamo che non ha bisogno di ulteriori spiegazioni ma quando poi si tratta di fare punchline del genere kanye west ha una discografia veramente ricca molto spesso si dice di fare una cosa alla volta perché quando ne fai di più tutte insieme rischi di farle tutte male o comunque non bene così potresti e invece kanye west grazie a kim kardashian ha capito che può farlo su più cose alla volta come terza barra ho inserito qualcosa di più recente proprio uscito quest'anno e sto parlando di nardo wick in who won't smoke penso che il mio draco sia gay perché sta uccidendo persone questo è un gioco di parole molto figlio e ora vi spiego il perché in ambito sessuale bloware significa succhiare basti pensare al solo blowjob ma è un'espressione che viene usata anche nei test di molti rapper per indicare l'uccisione in questo caso di più persone quindi l'arma di nardo wick è gay perché succhia le persone o succhia le vite delle persone insomma così come volete intenderla tra l'altro no one smoke può anche definirsi la sua it per eccellenza nonché quella che sta iniziando a far diventare grosso il suo nome per dirvi anche uscito un remix con il dirk 21 savage g erbo con tanto di video diretto da col bennett lui è una delle next big thing in america o almeno così si pensa e io vi consiglio vivamente di recuperare qualcosa di suo la quarta barra è un'altra rima leggendaria e sto parlando di yantag in check la traduzione letterale è questa se gli sbirri arrivano metto quel crack nel mio crack o metto quel break nel mio break ma così come avete anche sentito non ha molto senso in questo caso la frase non va tradotta ma c'è un significato dietro quando gli sbirri full lappano tag nasconde il crack nel suo culo e dopo nella seconda barra cambia le due c di crack in b per comunque dimostrare che rappresenta la gang dei bloods erano i tempi del 2015 ai tempi lui anche come gang member era molto più attivo ora chiaramente col passaggio al mainstream diciamo che la vita un po di strada se l'è lasciata un pochino alle spalle quindi magari non ha più questa esigenza di dimostrare a tutti che fosse un blood per quanto riguarda la quinta ecco henley cioppa in john gadi di billoo la figa di quella ragazza è così pelata le ho chiesto se avesse il cancro beh anche a questo giro non c'è tantissimo bisogno di spiegarla cioppa vedendo l'apparato riproduttivo femminile così rasato tutto preoccupato ha chiesto o ma non è che il cancro perché così come sicuramente saprete tra le tante cose che questa malattia potrebbe portare c'è anche la perdita di capelli magari proprio nei cicli in cui si va a fare chemioterapia come sesta rima abbiamo drake in girls one girls featuring lil baby hai detto di essere lesbica baby lo sono anch'io una delle barre più virali e discusse degli ultimi mesi proprio perché è estratta da certified over boy e io ho anche recensito quell'album e vi lascio il link in descrizione ma cosa avrà voluto dire davvero drake io mi sono fatto un paio di idee la prima è che lui attraverso questa barra abbia voluto ribadire il concetto di quanto gli piacciano le donne addirittura da risultare lesbica nonostante appunto è un maschio chiaramente non ha molto senso però è proprio il bello di questa rima il fatto che è una cosa così inaspettata e no sense che alla fine non puoi neanche dare una spiegazione vera e propria la seconda è mettiamo che si crea una situazione in cui drake e una ragazza stanno al bancone di un bar questa qua comincia a parlare a parlare a parlare drake se la vuole solo scopare inizia a dire una serie di robe come ho 21 anni mi piace mangiare la pizza sono lesbica e allora drake ascoltando quello che sta dicendo sì sì lo sono anch'io pur di portarsela a letto come settima e ultima barra abbiamo chief chief in bouncing penso che il mio cioppa sia gay l'ho preso dall'armadio abbastanza simile alla barra di nardo wick ma qui il significato è un pochino più fine quando le persone sono gay e non hanno ancora fatto coming out o comunque non l'hanno ancora detto a nessuno si dice che siano in the closet che tradotto significa nell'armadio qui sosa ferma di pensare che il suo cioppa sia gay perché l'ha preso dall'armadio posto in cui magari l'ultima volta l'ha lasciato ma anche lui è un artista che di queste rime ne è pieno in tutta la carriera e magari pensavo che un'altra idea sarebbe fare questi video di artista in artista per esempio le top 5 rime di un tag le top 5 rime di future e via dicendo insomma un'altra idea fatemi sapere voi cosa ne pensate ma soprattutto fatemi sapere quale di queste rime vi è piaciuta di più vi ha stupito di più per il significato che c'era dietro e soprattutto scrivetemene una qui sotto che magari come vi ho detto prima potrei prenderla e metterla nel prossimo video nel caso in cui il video vi fosse piaciuto vi fosse servito a capire meglio il significato di qualche rima mi raccomando lasciate un mi piace e soprattutto iscrivetevi al canale se lo siete già attivate la campanellina così non vi perdete ogni tipo di video che carico condividetelo con tutte le persone che volete e potete soprattutto se sono fan di rap americano noi ci vediamo ad un prossimo slat x Grazie a tutti.